I messaggi contenuti in questo ebook cercano tutti di esplorare il futuro con le prospettive più diverse dei diversi partecipanti a questo esercizio collettivo di fantasia, di scienza e di volontà. È importante esplorare il futuro almeno in tre sensi, bisogna cercare di intuirlo, di capirlo, ma anche bisogna cercare di preparare il futuro e bisogna anche costruirsi il proprio futuro. Vediamo quante angolature costituiscono l'asse dell'osservatore di fronte a una realtà alla quale pensiamo troppo poco come il futuro. Ebbene, costruire il futuro a sua volta vuol dire qualcosa di profondamente diverso se pensiamo a costruirsi il proprio futuro da parte del giovane studente, da parte di un'impresa, da parte di uno scienziato che deve fare un piano di ricerca a lungo termine. Ma c'è anche un costruirsi il futuro, costruire il proprio futuro per soggetti molto più ampi come un paese, uno stato o come il mondo. Lì il guardare in avanti e il decidere per costruire il futuro di un paese, il futuro del mondo addirittura, sono operazioni estremamente complesse con le quali l'umanità si batte da tutta la sua storia. Ma la caratteristica più difficile, più problematica in questi tempi è di farlo, costruire il futuro per una collettività, cercando di superare due tirannie, la tirannia del breve periodo e la tirannia del localismo. Mi spiego. Sempre di più oggi il dibattito civile dà peso al localismo, all'identità nazionale, locale. Tutto questo è molto bello, ci fa scoprire le nostre radici, ma rischia anche di darci una prospettiva geograficamente angusta, proprio in un momento in cui i problemi sono viceversa sempre più collegati attraverso lo spazio, attraverso i continenti e gli oceani. Ancora più insidiosa, se vogliamo, è la tirannia del breve periodo. Coloro che noi incarichiamo di costruirci il nostro futuro come paese, come mondo, cioè i governi nazionali e quegli embrioni che ci sono di governo internazionale, spessissimo guardano solo al breve periodo, perché hanno il vincolo, la speranza, l'obiettivo di farsi eleggere, e poi di farsi rieleggere. Mentre la soluzione dei grandi problemi dell'umanità oggi, cambiamento climatico, grandi debiti di certi paesi, protezione della nostra privacy, pur sfruttando al meglio il potenziale che ci viene dalle tecnologie digitali, sono tutti problemi che richiedono di guardare molto molto lontano e di decidere non condizionati dall'immediato, ma dalla prospettiva futura. Se il sistema pubblico di decisioni non riesce a svincolarsi da queste due tirannie, corriamo rischi gravi. Un paese che da molti decenni un paese guida, un paese faro, gli Stati Uniti in questo momento sembra caratterizzato da tutte e due queste angustie, una sorta di isolazionismo e di disprezzo per la cooperazione internazionale organizzata e una sorta di cortotermismo, di orizzonte prossime elezioni, un po' trascurando il ruolo che un grande paese dovrebbe avere per guidare con altri alla soluzione dei problemi del futuro dell'umanità.